Grazie a tutti Per questo si caratterizza la comunità di Torce in Guarida come la più tradizionale, la più conosciuta e la più famosa di Bolivia. Il primo toro che la stima, la mia mamma dice il buon anno per la cosecha della papa, quando il toro viste più tardi, non va a avere buona cosecha, questa è la nostra credenza di tutti que viviamo nel occidente. La verità non c'è una maltrata di Toros, qui sono tutti limpi, si juega la tradizione e la cultura, non c'è morte di Toros. Grazie